No, devo dire che la qualità dei contendenti era ottima e quindi siamo molto contenti di aver ascoltato questi giovani che fanno tanti sacrifici, devo dire, i giovani oggi, quindi sono contento che possiamo fare qualche cosa per loro. Bene, io proprio questo è l'invito che chiedo di fare ai giovani, cioè di studiare, di andare avanti, di confrontarsi, proprio questa è la strada che... Eh beh, per forza, è la strada giusta e bisogna intraprenderla con molta umiltà, molta serietà, è quello che fanno. Io in questi anni ho conosciuto centinaia di giovani e devo dire sono tutti veramente straordinari in questo e quindi da ben sperare. Ecco, quindi l'Italia in sostanza continua a difendere la sua qualità, la sua storia, il suo prestigio sullo scenario internazionale? Assolutamente no. Io nella mia classe di Acremona c'ho su 20 ragazzi, 15 sono italiani, quindi devo dire che c'è un buon numero di strumentisti italiani che si stanno facendo valere. Promosso il Conservatore di Musica di Benevento per il lavoro che sta facendo in questi anni? Il lavoro che sta facendo è meraviglioso e aiutare i giovani è quello che ci proponiamo tutti noi, vecchi. Grazie maestro, grazie.